VMD40 lubrificante per biciclette è un antiagrappante per catene e particolari meccanici di biciclette con ottima penetrazione in grado di fornire una lubrificazione di lunga durata ed una protezione totale. Riduce l'attrito ed il consumo di energia ed idrorepellente. Permette un funzionamento ottimale di tutti i meccanismi della bicicletta migliorandone la performance meccanica. Può essere applicato a catene, leve, cavi e diragliatori.